Nel video di oggi andiamo a vedere che cosa mi ha risposto EASA su una questione legata al mondo dei droni che ci tiene sulle spine a noi tutti ovvero che fine faranno i droni che hanno la marcatura di classe nel 2024 ma soprattutto che fine faranno i droni che la marcatura di classe non ce l'hanno vi dico tutto dopo la sigla Ciao a tutti bentornati o benvenuti sul canale io sono Alfredo pilota di droni e appassionato di tecnologia a 360 gradi come ben sapete fin da quando ho aperto il canale quindi ormai sono 4-5 anni ho sempre voluto informarvi sul volo legale con i nostri droni nel tempo i regolamenti sono sempre più andati a intensificare hanno iniziato a mettere leggi contro leggi leggi che contrastavano le regole che erano state scritte prima insomma come al solito hanno fatto un macello perché troppe regole ragazzi fanno due cose uno invoiono le persone a non rispettarle e a volare legalmente due non ci capiscono più niente neanche loro ma neanche noi utilizzatori diciamo esperti non ci capiamo più niente di quello che cosa dobbiamo andare a fare e cosa non possiamo fare da semplice utente da semplice persona che cosa ho fatto ho scritto un'email a Easa e adesso la leggiamo insieme e così vediamo anche che cosa mi hanno risposto ma prima come al solito vi chiedo di supportare il canale in maniera del tutto gratuita lasciando un bel like a questo video iscrivendovi al canale ancora non vi siete iscritti perché ragazzi è gratuito e a me mi date una grande mano e se volete attivate anche la campanellina così ogni qualvolta uscirà un nuovo video sarete avvisati detto questo vi ringrazio e iniziamo le mail che mi sono arrivate di collaborazione di voi che mi scrivete di che vi serve una mano allora ce n'è una che oggi ha suscitato il mio interesse ovvero del web support di Easa che è l'ente regolatore europeo troviamo la risposta che adesso andiamo a tradurre insieme così cerchiamo di capirci qualcosa intanto vi faccio vedere che cosa ho chiesto io a Easa io ho scritto per essere precisi il 28 settembre quindi ci hanno messo più di un mese e una settimana a rispondere gli ho scritto alle 5.41 del mattino perché mi alzo sempre presto al mattina salve vi scrivo per chiarificazioni riguardanti il regolamento europeo C0 e la marcatura dei droni C0 in sostanza vorrei avere una semplice spiegazione da voi sulla fine faranno i droni sotto i 249 grammi che non hanno la marcatura C0 sono italiano e qui da noi c'è una confusione nel caso dirlo è vero in merito a questo argomento ho anche un canale youtube da 11.000 iscritti e siccome ci tengo a far volare i miei iscritti comunque chi mi segue in totale legalità per questa ragione vi prego di rispondermi in modo tale che posso indirizzare tante persone a volare nel modo corretto in attesima risposta con dei saluti Alfredo risposta di Asa che adesso andiamo a tradurre perché è in inglese e non vogliamo fare cavolate caro mister papetti grazie per aver contattato Asa dal 1 gennaio del 24 le open category loro le chiamano full vabbè saranno applicabili i nuovi droni immessi sul mercato potranno operare nelle open category solamente se hanno la marcatura di classe dalla C0, C1, C2, C3, C4 quindi in sostanza dice che i droni nuovi che sono immessi dopo il 1 gennaio del 2024 dovranno avere sicuramente la marcatura C0, C1, C2, C3, C4 in base al peso i droni che sono stati immessi sul mercato prima del 1 gennaio del 2024 potranno operare nelle open category quindi quelle che ci saranno le limited open category finiscono e iniziano le open category e basta lavoreranno, voleranno in A1 se hanno un peso che è inferiore ai 250 grammi i famosi 249 grammi o in A3 questa cosa non la capisco la traduco da ignorantone o in A3 se di peso inferiore ai 25 kg scritto così significa che se io ho un Air 2S posso continuare a volare in A3 senza fare niente di particolare almeno fino adesso quindi se io ho un A3 solo a testato basico a 1 A3 volo a 150 metri dalle persone a 150 metri dalle c'è indebitati a 150 metri e tutto come diciamo in giargo nostro in un campo di patate almeno questo è quello che è scritto qui quello che scrivono loro poi quello che è scritto sul regolamento potrebbe differire da quello che dicono però questa è una risposta ufficiale da EASA quindi ha una domanda chiara andiamo a vedere quest'altra risposta traduciamo pure questa allora i droni con macchio di classe sono già disponibili oggi sul mercato grazie al cavolo lo sappiamo e presto ne arriveranno altri tali droni possono già essere gestiti utilizzando la categoria full open facciamo un esempio pratico un mini 4 pro un DJI A3 tutti i droni comunque che hanno il logo la marcatura di classe C0, C1, C2 o altre ci sta dicendo sono già marcati li puoi utilizzare come li utilizzerai nel 2024 anche adesso quindi A3 che ha marcato C1 la serie Mavic 3 che ha marcato C1 chi C2 in base al peso possono essere utilizzati seguendo le regole che entreranno nel 2024 lo stesso mini 4 pro e idem stessa cosa questo sta parlando sempre dei droni con la marcatura di classe attaccata questo simbolo che vedete qui da qualche parte e ci dice gli A1 se portano la classe C0 o C1 tutti i droni che fanno parte della classe A2 fino a 5 metri da persone non coinvolte possono volare se portano la classe C2 e attivano la modalità a bassa velocità altrimenti devono stare a 30 metri dalle persone che non sono coinvolte senza modalità a bassa velocità ok ragazzi fermiamoci un attimo e specificiamo questa cosa perché come ben sapete online ci sono una marea di rompi maroni intanto uno quale hobbista prende l'attestato A2 e adesso con un drone marcato C2 ovvero con un drone che pesa tra i 900 grammi e i 4 kg va a volare seconda cosa risposta EASA almeno in questa mail è incompleta infatti i droni che sono marcati C2 e che volano in A2 è vero che possono volare a 5 metri dalle persone non coinvolte nelle operazioni quindi che non sanno di essere sorvolati impostando ovviamente una velocità limitata soprattutto tramite l'app del drone è vero che se non impostano questa velocità limitata possono stare a 30 metri dalle persone ok ma non hanno detto che bisogna rispettare regola 1 a 1 cosa significa questo che se questo qui è l'individuo che sto no sorvolando perché sopra non ci posso volare ma gli sto volando vicino se lui sta qui e io sto qua e questi sono 40 metri devo stare a 40 metri di altitudine o sopra quindi 1 a 1 questo deve essere ben chiaro vi ribadisco l'ennesima volta che con un drone C2 sopra alle persone non coinvolte quindi che non sanno di essere sorvolate non ci potete volare chi compra un drone C2 tra i hobbisti un professionista perché di questo si tratta a fine chi guida un drone del genere è un professionista si informa guardando i video di Freddy Tech di Danilo Scarato di Andrea Pinotti di Biganet di tutti noi creatori di contenuti qui su YouTube oppure forse ha studiato e quindi queste cose già le sa e in A3 possono volare tutte le classi precedenti quindi la C0 la C1 la C2 i successivi C3 e C4 volare in A3 significa rimbosti proprio altamente isolati qui ve lo traduco giusto per parcondicio ma già andiamo oltre qua si parla di specific scenari standard parliamo di persone che proprio ci lavorano col drone e dice che dal primo gennaio 2024 diventeranno applicabili anche i scenari standard europei gli STS bene ragazzi io vi ho semplicemente letto la risposta che mi ha dato EASA e almeno a livello nostro livello hobbistico ma anche semi professionale diciamocela tutta a noi interessava capire questa cosa ovvero che i droni almeno a detta loro sotto i 2,49 grammi sia vecchi sia nuovi voleranno nelle stesse condizioni quindi chi ha un mini SE a questo punto volerà normalmente qui non parlano di mtom di tom non parlano di niente questo è quello che si evince da quello che dà in risposta è ASA quindi è una risposta ufficiale cioè non è che c'è un deficiente dietro ci hanno messo un mese e una settimana per rispondere e quindi io mi fido di quello che mi è stato scritto qui però ovviamente cosa fanno come tutti gli enti europei come fa di flight si parlano le chiappette dicendo va bene però tu intanto per maggiori informazioni dettagliate vatti a vedere il regolamento europeo e tutto quello che ti ha linkato qui sotto alla fine di tutto questo si evince solo una cosa che come vi ho detto prima troppe regole fanno incasinare il sistema ma fanno incasinare anche loro fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate voi di queste nuove regole che si vanno a contrastare con le vecchie io cercherò di volare il più possibile in maniera legale qui in Italia e in Europa a mio avviso quando la legge non è chiara che ci sono tutte queste in convenzioni le regole potrebbero anche non essere fatte applicare io posso dirti benissimo la legge non è chiara non c'è un bianco e nero scrivete da una parte una cosa sul regolamento ne scrivete un'altra poi si te rende regolatore rispondete anche tramite mail in maniera ufficiale così in una eventuale causa io penso che possiamo appellarci anche al fatto che il regolamento non sia proprio chiaro come adesso succederà per i monopattini da dicembre o da gennaio stessa cosa perché anche lì la situazione non è delle più rose detto questo io ci tenevo a fare questo video ci tenevo a mostrarvi che Asa non ci stanno capendo tanto neanche loro quindi perché dovrebbe capirci un comune mortale come me e come te e io ho fatto semplice divulgazione oggi di quello che è accaduto a me vi ringrazio per essere stati qui con me fino alla fine del video lasciate un bel like se volete supportarmi in maniera del tutto gratuita attivate la campanellina e iscrivetevi se ancora non siete iscritti noi ci vediamo nel prossimo video sempre qui su Freddy Tech ciao ragazzi grazie a tutti